Musica Benvenuti in questa breve presentazione del pannello di controllo di Camtasia Studio. Come potete vedere abbiamo tre distinte aree di lavoro. La prima sulla sinistra tutta bianca è la clip bin ed è destinata ad accogliere tutti i file multimediali di cui compone il video, immagini, file musicali, video e quant'altro. Sulla destra abbiamo con questo schermo nero la finestra anteprima. In qualsiasi momento andiamo ad interrogarla compare a video il lavoro fatto fino a quel momento. Giù abbiamo la timeline, la linea del tempo quindi. E abbiamo questi pulsanti che cliccando sui relativi pulsanti si accede a determinate funzioni. Come vi dicevo la prima è la clip bin, poi abbiamo la libreria. In questo caso per ora il programma contiene solo i file multimediali a corredo del programma. Sono file di audio e di immagini. Poi abbiamo i call out che sono una sorta di fumetti di animazioni che arricchiscono il nostro lavoro. Poi abbiamo zoom. Attraverso questo pulsante andremo ad ingrandire determinate aree di lavoro. Con audio possiamo ottimizzare la nostra fonte musicale o di voce parlata. Qui abbiamo le transizioni, vedremo poi come applicarli. E in ultimo more che ci permette di dare delle forme al nostro cursore, dei titoli al lavoro, di incorporare piccoli video all'interno di altri e addirittura anche di poter azionare la webcam e di incorporare poi al nostro elaborato anche una piccola visione di soldi smette laterale in un angolo della cam. Invece dal lato superiore abbiamo altri pulsanti. andiamo ad interrogarli andiamo ad interrogarli e cliccando sulla freccetta nera abbiamo due possibilità cliccando record screen la prima è quella di fotografare il nostro schermo la seconda record powerpoint attraverso quest'altra opzione si può elaborare un lavoro a powerpoint io non l'ho ancora esplorata per la verità questa opzione, questa possibilità import media attraverso questa opzione andremo a trovare nel nostro pc tutto quello che il programma può ricevere e sono davvero infinite le possibilità di estensioni dei vari file camrec è il formato che lavora con appunto con Camtasia avi, mpg, vmw, gif, png, gp ma davvero tanti mp3 e quant'altro poi abbiamo l'ultimo pulsantino produce and share attraverso questa possibilità abbiamo l'opportunità di produrre il nostro elaborato e di condividerlo con la seconda scelta qui abbiamo la possibilità di uploadare il nostro lavoro proprio sulla piattaforma di Camtasia però bisogna essere registrati a questa io ho un hosting a parte oppure mi poggia sul mio dominio che è altervista fra l'altro è anche free quindi ha uno spazio limitato però per il momento non ho ancora avuto problemi adesso poi con l'ultima possibilità share to youtube abbiamo l'opportunità di mandare direttamente attraverso la nostra id e la nostra password il lavoro a youtube e condividerlo bene per il momento direi che può bastare ora salvo questo video che ho registrato insieme a voi e così la prossima volta con il prossimo video vi farò vedere proprio come incorporarlo al programma come apportare delle modifiche e magari insieme proviamo a migliorarlo per ora ci salutiamo grazie per l'attenzione alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti